Un saluto a tutti dalla voce di Bruno Pizzul. Andiamo a leggere i risultati finali della ottava giornata di Lega Pro Girone A. Arginiano Valchiampo, Ferralpi, Sarò, 2-1. Juventus Next Gen, Pro Sesto, 3-0. Novara, Vecco, 1-2. San Giuliano Siti, Pergolettese, 1-0. Triestino, Alpinoleffe, 0-3. Padova, Virtus, Verona, 0-0. Propatria, Trento, 1-2. Pro Vercelli, Piacenza, 2-0. Renate, Lanerossi, Vicenza, 2-1. Infine, Mantova, Pordenone, 2-1. Questi sono i risultati di Lega Pro Girone A. Ottava giornata. Un saluto a tutti i tifosi d'Italia, a tutti gli appassionati di calcio.